scherzi scherzi da prete cari amici scherzi da prete da mattia da mattia vedete mattia mattia santori da mattia santori a per giorgio rifredi questo è il corriere della sera odierno oggi è il 25 aprile del 2020 vedete la zanzara non cessa mai di colpire ora ha colpito questo simpatico giovane delle sardine il capo delle sardine e mattia mattia santori e quelli della zanzara si sono finti di essere papa francesco e hanno telefonato a questo simpatico giovane vedete mattia santori e lui è tutto contento tutto contento tutto contento ma io in serbo una cosa molto più bella lo scherzo che la zanzara fece tanto tempo fa a per giorgio di freddi io la registrazione della comunicazione telefonica tra per giorgio di freddi e la zanzara che fingeva di essere papa francesco la comunicazione telefonica ovviamente la zanzara ha registrato tutto e io tale comunicazione telefonica me la metto negli assoluti questo video così voi potete ascoltare nella sua interezza il dialogo tra per giorgio di freddi e papa francesco che non era papa francesco era la zanzara e per giorgio di freddi era tutto emozionato si sente dalla voce tutto emozionato parlano dei libri di libri perché per giorgio di freddi avrebbe dovuto pubblicare un nuovo libro e avrebbe avuto piacere che ci fosse la prefazione di papa francesco anche perché anche perché per giorgio di freddi dice che qualche tempo prima c'era stato una c'era stata una corrispondenza tra lui e il papa precedente papa teologo va bene cari amici eh mi raccomando uè zanzara fatelo pure a me un qualche scherzo zanzara fatelo pure a me un qualche scherzo zanzara dai che ci terai tanto zanzara io sono l'autore di questa opera storico mitologica zanzara capito bene zanzara bene bene zanzara a te zanzara a mattia santoro a per giorgio di freddi e tanti cari saluti da serafino massoni ok 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 cari amici g Ciao a tutti